Buonasera, iniziamo a dialogare di Repubblica di Weimar, un periodo storico, uno snodo, la storia nelle vicine della Germania è estremamente importante perché ci aiuta a capire, ci aiuta a vedere come è stato possibile che un'esperienza democratica, repubblicana, federale, quella della Repubblica di Weimar, caratterizzata, come molti giuristi dicono, da un'ottima, da una buona Costituzione, sia entrata in crisi, sia caduta sotto l'attacco di una forza di estrema destra, quella appunto nazionalsocialista guidata da Adolf Hitler che poi dopo, a seguito del suo progressivo crescere e poi della sua vittoria, creerà il cosiddetto Terzo Reich, quello che poi porterà il mondo alla Seconda Guerra Mondiale, in cui avrà una certa importante responsabilità. Peraltro è anche un periodo storico che suscita una certa curiosità, una certa attenzione, visto che proprio in questo periodo si sviluppano in Germania movimenti culturali, fermenti artistici, culturali, estremamente importanti, estremamente ricchi e significativi, che rendono la Germania un po' unica in questo periodo, in questo periodo storico, insomma con delle esperienze culturali importanti. Certo la Germania in questo periodo vive i grandi problemi che in qualche modo vive tutto il mondo, dopo la grande guerra, gli effetti che la grande guerra ha portato, una grande guerra che ha scatonato elementi di violenza o ha abituato il mondo in una certa violenza, poi le grandi contraddizioni che la grande guerra ha lasciato, e poi la gestione delle trattative di pace di Versailles, come ha detto Keynes, trattative di pace gestite all'insegna dell'egoismo, della cecità rispetto al futuro, in modo particolare poi la Germania è sembrata a molti tedeschi essere stata particolarmente punita e penalizzata appunto di scatenare poi un certo sentimento di rivalsa o di consentire in modo particolare all'estrema destra di sottolineare questo trattamento che le forze borghesi o anche le forze di sinistra hanno in qualche modo subito questo trattamento negativo verso la Germania da parte delle potenze vincitrici che le forze borghesi o le forze anche socialdemocratiche che le forze di sinistra hanno subito e non hanno contrastato. Abbiamo detto che la Germania, come altri paesi di questo periodo, la Russia, pensiamo all'Italia, di cui per certi versi anche le vicende sono un po' parallele, pensiamo al fascismo italiano e a quello che è successo in Italia, quindi sono anche delle vicende parallele, diverse, ma degli aspetti simili in questo periodo storico, dico la Germania viveva già prima dell'armistizio una situazione simile a quella della Russia del 1917, una situazione di malessere, di caos, di disordine all'interno dell'esercito, di stanchezza verso la guerra. Nel novembre del 1918 poi iniziarono, ci saranno i famosi ammutinamenti, ammutinamenti della flotta, questo era successo anche in Russia già nel 1917, insomma l'esercito e le forze armate sembravano non essere più in grado di continuare la guerra, anche se Germania fece l'esperienza di finire la guerra al fronte, per così dire, in novembre i soldati erano ancora al fronte, anche se non erano più in grado di combattere e questo psicologicamente avrà un suo ruolo, non si erano buttate per terra la divisa o l'esercito si era svaldato, però non era più in grado di combattere. Questa situazione di malessere, di sfaldamento, così dentro dell'esercito e anche l'ammutinamento di una parte della flotta produsse la caduta dell'imperatore Gugliano II, l'imperatore che aveva nell'esercito un suo punto di forza fondamentale, abbiamo detto che in questo periodo storico avevano aspetti simili in alcuni paesi, abbiamo detto l'Italia, ma anche in Russia lo zar abdicò, lo zar Nicola abdicò perché l'esercito a un certo punto non obbediva più gli ordini e l'esercito era un fondamentale punto di forza, come lo era per lo zar in Russia, naturalmente lo era anche per l'imperatore Gugliano II in Germania e nacque la Repubblica tedesca dove si diffusero dentro in Germania i consigli degli operai e dei soldati, certamente sull'esempio della Russia, anche in Russia erano nati i soviet e c'erano i consigli appunto degli operai e dei soldati. La principale forza del periodo erano i socialdemocratici, la sinistra si presentava in questo periodo storico forte, forse anche come quella la quale sembrava in grado di interpretare un malessere, un disagio o forse elementi di ribellione verso una situazione molto drammatica, molto dura in cui era accaduto il paese, era stato portato in questa situazione dallo stato maggiore dell'esercito, in qualche modo dall'imperatore. Tuttavia la sinistra è forte, però al suo interno è divisa e questo ci fa sempre venire in mente aspetti simili in Russia, sinistra divisa e anche in Italia una sinistra divisa. In Germania era nato nel 1917, dai socialisti era nata una forza chiamata Socialisti Indipendenti, l'USPD guidata da Bernstein, che era un socialista che rifletteva sulla revisione della teoria di Marx e sul fatto che il capitalismo non stava crollando come aveva previsto Marx in qualche modo, quella riflessione sulla caduta tendenziale del saggio di profitto. E questi socialisti, questa forza, questa parte della sinistra erano stati espulsi dall'ESPD, prima perché erano per la pace, loro erano per la pace, mentre invece l'ESPD era per proseguire la guerra, per una fedeltà all'impegno nella guerra, una fedeltà al paese che loro ritenevano in sé prima rispetto ad altri impegni. Questo uno anche degli elementi poi sarà per Lenin del fallimento della seconda internazionale, fallimento della seconda internazionale perché i partiti socialisti di Europa per gran parte, per gran parte, eccetto quello italiano, avevano sostenuto lo sforzo bellico dei vari paesi. Inoltre poi in seguito poi emergerà che i socialisti indipendenti erano per creare una Repubblica Socialista, una Repubblica Socialista e quindi creare un'esperienza politica diversa da quello che poteva essere un modello liberal-democratico. Un'altra forza di sinistra, di estrema sinistra, si può dire, era nata nel 1918, era il Partito Comunista, il KPD, i quali sostenevano la necessità di creare dei consigli dal basso, l'esperienza sarà poi naturalmente quella dei Soviet, in modo tale da spostare il potere dal basso. Vengono in mente tutto il potere consigli dal basso che avrebbero dovuto gestire il potere, spostando tutto l'asse decisionale nel basso, nei lavoratori. Viene certamente in mente l'esperienza dei Soviet, le tesi di aprile di Lenin nel 1917 quando Lenin disse tutto il potere ai Soviet. Certo, il modello era quello dell'URSS, era un modello dell'URSS e comunque di una Repubblica Socialista, in questo senso sembravano più vicini ai socialisti indipendenti, cioè certamente una visione più di sinistra rispetto all'Espede e con una prospettiva diversa. Abbiamo detto che in Russia aveva questo problema tra bolshevichi e menschevichi e anche in Italia tra riformisti e massimalisti, una divisione cioè all'interno delle sinistre, poi in Italia sorgerà anche il partito, anche in Italia nel 1921 il partito comunista sulla scorta della terza internazionale che nel 1919 aveva detto di creare partiti comunisti nel resto d'Europa, nel resto del mondo. Nel dicembre del 1918 l'Espede era comunque molto forte, a differenza della Russia, cioè i socialisti, noi li chiameremo riformisti, era molto forte, a differenza della Russia e poi dell'Unione Sovietica dove i menschevichi erano deboli, erano deboli, mentre invece i bolshevichi diventerano sempre più forti fino poi nel 1917, ottobre del 1917, riuscire a prendere il potere. L'Espede formò un governo provvisorio, un governo provvisorio con l'obiettivo di una democratizzazione del Paese e di dare al Paese una Costituzione, si voleva creare una Repubblica democratica all'interno di un sistema liberale, sappiamo che la prospettiva della socialdemocrazia in qualche modo convive con le istituzioni liberali o con un certo tipo di istituzioni economiche, convive certo cercando di fare delle riforme dall'alto, di cambiare la situazione naturalmente dall'alto dopo aver vinto le elezioni, ma lì la prospettiva è quella di creare un sistema liberaldemocratico, come in fondo era successo in qualche modo anche in Russia, probabilmente Keresky nel suo governo aveva questo tipo di prospettiva, proseguire la guerra per creare poi in Russia un sistema liberaldemocratico e poi dopo così magari vincere le elezioni e creare un governo socialista, socialista dall'alto. Comunque la prospettiva era appunto quella di creare un sistema liberale, democratico, una democratizzazione del paese e per fare questo bisognava darsi una costituzione, quindi bisognava scriverla e creare una costituente, indire una costituente. L'estrema sinistra però abbiamo detto aveva una visione diversa, un obiettivo diverso e si creò, esplose a Berlino un'insurrezione, la Liga di Spartaco, così una Liga di estrema sinistra connessa appunto al partito comunista e che poi produsse quella che nel gennaio del 1919 sarà la forte repressione di questa esperienza politica, la cosiddetta settimana sanguinosa che appunto dove fu soffocata la Liga di Spartaco, fu soffocata questa azione dell'estrema sinistra legata appunto alla forza, alla presenza dei comunisti in Germania e fu assassinata una dei leader della Liga di Spartaco e dell'estrema sinistra e della forza comunista in Germania, la sappiamo, la Lussemburga. Fu assassinata perché l'ESER fu assassinata dall'esercito e questo ci porta a notare questo primo passaggio, l'ESPD che ha fermato un governo provvisorio è riuscito a riportare l'ordine e a eliminare questo tentativo di colpo di Stato, insurrezione dell'estrema sinistra e delle forze comuniste, ma con l'appoggio dell'esercito, con l'appoggio dell'esercito, l'esercito appoggia l'ESPD e l'ESPD agisce con l'appoggio dell'esercito, questo è un tema che forse avrà poi il suo peso nella valutazione dell'azione dell'ESPD. Nel gennaio del 19 si tengono le elezioni per la Costituente, abbiamo detto che l'ESPD vuole creare una Repubblica, una Repubblica democratica e dare alla Germania una Costituzione, per fare questo bisogna creare una Costituente che appunto scriva la Costituzione e si tengono le elezioni. Nelle elezioni è subito chiaro la forza dell'ESPD, un ESPD che prende il 37%, quasi il 38%, anche in Italia nel 1919 il Partito Socialista Italiano era diventato come partito, perché i Liberali erano un movimento, era diventato in qualche modo il partito più forte, un partito fortissimo, se non ricordo male 150 deputati, un partito forte e presente in Parlamento, come partito è il primo partito. Poi alla sua sinistra c'è l'ESPD, ci sono i socialisti indipendenti e i comunisti, i socialisti indipendenti e i comunisti, che arrivano a un 7 e qualcosa per cento, l'ESPD non sembra preoccupata da questo tipo di contestazione a sinistra, da questo tipo di separazione a sinistra, è una forza consistente e molto presente in Parlamento, certamente non ha la maggioranza assoluta, però va detto che anche in questo periodo vediamo la presenza anche di altre forze. Il Centrum, che è un partito cristiano, moderato, che è un partito cattolico, interclassista, non è un partito incentrato solo sui lavoratori, ha un certo successo, il 19,7%. Adesso ci ricorda naturalmente anche il caso italiano, anche in Italia il Partito Popolare, il Partito Centrum ha avuto un certo successo, una certa forza, una certa presenza. C'è anche un partito liberale, liberal democratico, che è appunto il Partito Democratico, che ottiene il 18,6%. Ancora partiti di estrema destra forti non ci sono, la sinistra è molto forte, è forte, l'ESPD stessa ha una presenza consistente, in prospettiva è forte, molto forte è anche il Centrum e non ci sono in questo momento problemi, gravi problemi di penetrazione di forza di estrema destra che spingono contro la costruzione di una certa Repubblica, di una Repubblica che poi sarà una Repubblica democratica federale. Infatti nell'agosto 1919 nella città di Weimar, da qui il nome Repubblica di Weimar, si scrive la nuova Costituzione che sarà la base di questa Repubblica. Questa Costituzione si caratterizza per alcuni passaggi che possono essere significativi. Intanto si individua la presenza, la realtà di un forte potere centrale, che è il potere del Presidente, di una forte figura che è quella del Presidente, il quale deve dare ordine, deve dare stabilità a tutto il sistema, ridurre l'instabilità. Prima la Germania era un impero, con un imperatore al centro, c'è questo tema di un forte potere centrale o di un potere che ha la capacità di essere in punto di sintesi, di equilibrio, appunto di eliminare gli elementi di caos, di disordine, di instabilità. Questo Presidente è eletto per sette anni, è eletto dal popolo e quindi ha anche un mandato, un mandato elettorale importante, perché è un mandato elettorale che viene dal popolo. Questo Presidente è quello il quale convoca o scioglie il Reichstag, che è il Parlamento, quello che è convocato per il Presidente dura sette anni e il Parlamento dura quattro anni, quindi il Presidente dura di più del Parlamento, ha una maggiore stabilità rispetto al Parlamento e il Reichstag è quello che fa, è l'organo che fa le leggi, è il Parlamento che fa le leggi, è un Parlamento unico nel senso che non c'è un sistema bicamerale in questa Repubblica, ma c'è questo Parlamento politico e poi parallelo a questo Parlamento c'è un Parlamento che rappresenta i vari Stati locali, i cosiddetti Lander, 18 Lander, il Reichstag, che si occupa dei temi relativi ai Lander, così agli Stati, come dire, a una Repubblica federale, alle realtà locali, agli Stati locali. Tuttavia il Parlamento dei Lander ha diritto di veto verso le leggi, ha una sua voce, anche se colui quale fa le leggi generali e complessive è il Reichstag appunto che fa le leggi, noi l'abbiamo detto eletto per quattro anni. Il Reichstag è eletto a suffragio universale, è eletto a suffragio universale e la legge elettorale poi che si utilizzerà sarà la legge, la legge approvata 1920, una legge di tipo proporzionale puro, per rispettare la democrazia e sentire a tutti di partecipare. Naturalmente questo tipo di legge ha il problema che può succedere che non si creino delle maggioranze stabili e che ci sia una frantumazione all'interno dei partiti e questo sarà un po' il problema della Repubblica di Weimar, una frantumazione del sistema politico. Il Presidente non solo scioglie, convoca il Reichstag e ha questo ruolo di punto forte all'interno di questo sistema, del sistema politico tedesco, ma anche indica il Cancelliere, il quale però nomina il Cancelliere, il quale però dopo deve ottenere la fiducia dal Parlamento, dal Reichstag. Il Cancelliere risponde poi al Reichstag della sua opera, cioè deve rispondere naturalmente al Parlamento di ciò che ha fatto e della sua opera, anche se è nominato dal Presidente. Notiamo qua, è interessante notare che le due cariche, due cariche molto importanti in questo sistema, quella di Presidente e quella di Cancelliere, non devono concidere, devono essere due cariche sempre separate. Lo notiamo perché invece una volta che morirà il Cancelliere che è Indenburg, sappiamo, che morirà il Presidente e che è Indenburg, sappiamo che invece Hitler assumerà tutte e due le cariche su di sé, sia quella di Cancelliere, sia quella di Presidente. Dopo questa tornata elettorale, vista la forza di questi gruppi politici, sarà l'Espede, saranno i socialisti unitari, sarà al centro a eleggere le prime due grandi cariche della Repubblica di Weimar. Il Presidente Sarai Ber, che è dell'Espede, e il Cancelliere Scheidemann, sempre dell'Espede. Espetterà loro gestire questa situazione e gestire e iniziare la vicenda della Repubblica di Weimar. Mi fermo qua, vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto ai prossimi incontri dove cercheremo di analizzare gli elementi problematici e lo sviluppo delle vicende dentro la Repubblica di Weimar. Ai prossimi incontri, arrivederci.